Sulmona ha rappresentato per me, per questi giocatori, una sfida, una sfida che veniva da una sconfitta dell'anno scorso, noi ce l'abbiamo passata tutta. Siamo stati in assoluto i più bravi, la città di Sulmona è venuta a Giulianova, siamo stati la squadra in assoluto che ha la miglior difesa, i miglior attacchi, tengo migliori giocatori, il più bravo allenatore, un grandissimo presidente che ha dato a me la possibilità di fare una squadra molto importante. Per me è un dovere costruire qualcosa, spero di esserci riuscito, io non so da domani cosa accadrà, io dico soltanto che ti avrò nel cuore, spero altrettanto.